questo oggi c'è una parola d'ordine riscatto il San Michele che vuole tornare a vincere dopo il 4 a 0 interno contro il Piazza Armerina di sabato scorso dall'altra parte invece il Palermo si rilancia dopo il pari per 2 a 2 contro il Molfetta amici di Puglia 5 appassionati di futsal qui siamo dal Pallagravinese pronti per raccontarvi San Michele città di Palermo ottava giornata del Gironetti di Serie A 2 Gonzales serve Console che calcia di prima ancora lì Claudio Console a tu per tu col portiere sette giornate del città di Palermo eredia palla per Console calcia Console dice di noi il portiere in due tempi la fa sua recupera palla il Palermo che adesso vuole ripartire in contropiede c'è spazio con badalamente attenzione il numero 30 calcia qui il 23 Sposito quattro minuti al termine del primo tempo sempre 0-0 tra le due squadre San Michele che gestisce con Primavera palla per lo schiavone subito Giovinazzi c'è spazio calcia Giovinazzi palla che termina a lato Petragallo supera l'avversario avanza Petragallo lo scambio per Console Petragallo Petragallo calcia Petragallo mura la difesa esiste Petragallo e arriva il gol del San Michele Niccolos Petragallo sblocca le marcatura il pallone da Gravinese Gonzales non ha spazio calcia Gonzales palla fuori riparte in mesi esce dai pali lo scambio per la piana retropassaggio per Montevago subito per il compagno di squadra arriva Sposito a calciare mura di bagno calcia direttamente Madonia serve Primavera lo schiavone Giovinazzi calcia palla a lato 7-26 al termine San Michele 1 Palermo 0 attenzione qui Console sopra l'avversario tu per tu col portiere calcia dice di no in mesi dunque Gonzales palla per Console la piazza respinge in mesi ancora Console calcia Console ancora in mesi Petragallo la battuta serve Console in mezzo per Claudio Console Samo il tira respinge in mesi palla ancora lì recupera palla Gonzales attenzione pericolo c'è Claudio Console Console tenta di tacco dice di no in mesi poi la spazza via la difesa palermitana grande chance per il San Michele si accende in questo finale le palla da Gravinese ultimi secondi manca meno di 10 secondi al termine Palermo l'attacco su un secondo cosa si è mangiato Montevago brividi nel finale ma ormai finisce così il San Michele tra tante sofferenze vince 1-0 contro il Palermo torna a vincere dopo lo stop di sabato scorso e dunque amici di Puglia 5 è tutto dal Palala Gravinese grazie grazie grazie